ok e niente allora vediamo vediamo lui entrato e 42 sono e 47 quindi niente bella per no che bello non mi fai spellere david e no e non ce l'ho neanche come amico mi sa e rct the king mi sa che ti dover oh grazie mille grazie mille lori e lori mi sa che ti dovrei spellere non mi voler male ma sta david che david x man che come potete notare ha il nome bianco per cui io non posso e spellerlo ciao david x man comunque david non so se mi esiste solo energia cosa ok david non so se mi senti però se mi senti david non è che potresti quittare per gentil cortesia perchè david è il tuo amico ah è il tuo amico ah ok che no perché ah ok che 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 chiaro 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 il primo per ora è dimmi ti puoi dare una tante promesse tieni no tieni dicevo questo è stato fatto che non è scritto questo è la box ah è proprio ma io non ho capito ma questa società è ma che sta a fa questo qui qui in attimo aspetta sta no no sta un tizio qua sotto che bello quanto laggo ah sta qua rinchiuso rubo tutto rubo tutto regà un attimo ciao aprimi poi amico no no io non hablo espanol io hablo italiano il mio inglese è misto italiano proprio perfetto no io ho parlato italiano il mio inglese è vero perché non studio inglese per la mia vita loca io ho quittà fornì vita loca io ho quittà ho preso no io ho quitta io ho quitta se se il lume apre e niente niente amico te le mani là dentro amico non c'è insomma problemi allora io hablo italianese non hablo inglese si che sa di spagnolo Io non parlo spagnolo Fuera 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 Quinta quinta Fuera fuera No fuera Fuera per favore fuero 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 feroero o no otras personas deben entrar fuera se fueran camón plis no la persona no entra persona mala chica mala you you are esa chica mala you are esa chica mala tu sei una chica mala giustamente abbiamo trovato una chica mala adiós amigos fueras adiós lega non lo posso spell e regalo avrei già nati l'avrei già fatto volentieri non lo cose spell e regalo ma ci funziona ma che sta e dice fuera 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 avventura e bye bye amigos siglio later no pose no allora blocchiamolo allora matteo ci siamo chiudiamo qua chiudiamo qua così questo qui si deve rimanere qualche uso la musica è per favore abbandona che sto in live e ci ha ventiato a scritto se non tolcio la mare questo è questo è proprio come è por favor salga e sto vivo sino e sto i proibito 20 cup registros il mio spagnolo è orrendo però boh al david david you come si dice io hablo il mio spagnolo no no allora david x man david x man por favor salga e sto i vivo sino e sto i proibito 20 20 k registros 1220 20 k registros no per favore no hai no hablo espagnolo ai use google traslate no uscire lei uscire tu o amico amico mio it's me mario it's me mario david david fuera fuera david formi vita loca d minacciamo david di di farlo bannarlo di farlo bannarlo si puoi farla in gelosilla va bene fallo david vuoi farlo innamorarlo fallo pure vuoi farlo in gelosillo fallo pure david la mia testa dice wata 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 ma il cuore dice blacks bebon blacks bebon la mia testa dice wata 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 ma il cuore dice black bebon black bebon ora black bebon c'era da vita da vita e vomito e vomito il profumo sai che se vivo se non sei bevito non ti viva non è come il posto che sta marco ma il raggio si 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 hai scambia però ora te vuoi andare a fa no 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 non ho detto niente ci disto ciao david meron rompiste las bolas si dice così a thank you so march prendo io prendo no io fu era voi fuori l'avore fuori david 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 è nessuno un uomo sin della solare testa rolas no non è italiano e sta usando google translate per sicuramente a boh comunque era amico amico italiano no no you ares no amico mio nella seconda puntata chi riesce a far uscire david gli regalo un ballo da 200 che ne so